ciao ciao a tutti un bacio a tutti come state o più terribile io sono il gatto più terribile si è svegliato proprio è svegliato è svegliato e proprio non finisce ma è una corsa contro il tempo a volte nelle cose quindi io adesso siccome sta dormendo in parte a me sulla sedia vicino a me ho detto facciamo questo video così riusciamo ha già fatto cascare una cosa dalla sedia dove sei andato mamma dove stai andando oddio oddio dov'è è sceso è sulla tua sedia ok è sulla sedia a posto a posto ciao come state praticamente più terribile allora mi è arrivato un pacco un regalo dalla mia amica cri un bacio cristina che bello quanto mi piace allora vi devo spiegare un po di cose sarò breve concisa perché vi voglio far vedere che cosa mi ha regalato allora vi ricordate il video dove ho fatto vedere lo zaino della mandarina dac ok lei che ho fatto coi punti del conad il 99 per cento regalati lei regalati nel senso che prendevo anche quelli la di chi acquistava lì al conad e non prendeva i punti quindi io per piastro zaino ho fatto i capomazzi quindi quando lei ha visto il video gli è venuta in mente una cosa anni fa lei aveva comprato uno zaino della mandarina dac all'interno del negozio aveva un colore come uscita ne aveva un altro e quindi questa cosa siccome non l'ha preso nella sua città ma fuori glielo cambiavano solo fuori doveva ritornare indietro quindi questo zaino è rimasto a lei ma comunque non le è piaciuto e non l'ha mai indossato e quindi mi ha chiesto mi ha fatto vedere la foto mi ha fatto vedere il video mi ha chiesto se poteva piacermi eccetera eccetera ovviamente ho detto sì perché è un colore meraviglioso tanto che ho detto sei sicura che non lo porti sei sicura lei ha detto io non l'ho mai portato perché purtroppo non mi è piaciuto il colore e quindi mi ha fatto un pacco con questo zaino ancora con la borsa o la busta originale mandarina dac più un sacco uno scatolone di cose che adesso vi faccio vedere che io ti mando un bacio è meraviglioso meraviglioso giulia l'ha già visto ovviamente è piaciuto talmente tanto a lei quando vide la foto e il video che ha detto mamma dopo questa quando viene posso vederla dico vedi la vedi è piaciuta troppo quindi già lo sai ti ho già avvertito che lo zaino praticamente se l'è presso giulia sono molto contenta perché comunque è un colore che lei adora è questo colore zucca ecco questo colore zucca molto molto bello ecco adesso con la luce sembra quasi fluorescente ma ecco molto vedete cammello tipo a lei piace tantissimo ed è veramente bellissimo come zaino perché a differenza del mio qui che il mio ha la zip questo qui ha ancora i classici bottoni come qua sopra vedete ha poi le tasche qui laterale ma è meraviglioso crei è meraviglioso ha tutta la fascettina con mandarina dac dentro intonso proprio intonso intonso e quindi io ho accettato perché comunque è meraviglioso questo zaino è bellissimo 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 piace sia a me che giulia ma giustamente giulia come l'ha visto ora io ce l'ho blu lei come l'ha visto giustamente mammina lo prendi te è ancora diciamo un rigido nelle movenze perché è proprio nuovo lo zaino guardate che spettacolo bellissimo quindi creo ti ringrazio perché questo sarà indossato indossato giulia felicissima nuovissimo a poi la ci sono così bello bello crei meraviglioso mi piace tantissimo sulla scena di questo mi ha detto già che facevo la la scatola con lo zaino mi ha praticamente omaggiato con le sua creatività sappiamo facciamo parte praticamente di un mondo creativo fatto di agende di midori di penne matite stickers e praticamente capita che ci siano questi scambi ma omaggiato con cose che io non avevo e che quindi poi addirittura due cose meravigliose che condivido con voi e quindi io potevo essere che felice oggi quando è arrivato questo pacco detto no meraviglioso allora incomincio da quello che ho davanti è per farvi vedere guardate questo astuccino questo è sicuramente un astuccino fatto da qualche creativa e mi piace perché è capiente guardate che bello che è proprio capiente poi c'è le tonalità dei di questo io trovo che sia meravigliosa ancora di più questo è bellissimo questo astuccio io sono amante pochette astucci guardate che spettacolo ma che meraviglia che sono sti cuori le mollettine ma che bello bellissimo e mollette oddio io le amo queste cose io le amo queste cose devo farvi vedere eccoci qua guardate che bello ancora io ho proprio scatolone pieno 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 di queste cose bellissime bellissime guardate qua queste sono eccezionali perché da una parte sei colori da una parte hanno la punta fine dall'altra ce l'hanno cicciottosa il tratto è proprio così fine fine da una parte perché io ho già prova non riesco io ho già provato che belli regali guarda bellissimi punta così punta cicciottosa meraviglioso 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 che bello che ciò oddio che bello poi mi ha regalato che allora questo lo apri mamma mia che cosa stupenda allora questo qui è base occhi dovrebbe essere si è mai 6 ai se ghiaccio questo qui blush della essence e questo qui è un glitterato da mettere sul corpo sugli occhi tutto è tutto glitterato è sempre una base per le scende guardate che spettacolo spettacolo che spettacolo poi mi ha regalato questa serie dei gommine che sono enormi grazie tesoro questi stickers questo questi post it questi sono comodi perché si può scrivere tranquillamente e sono trasparenti quindi non vanno a coprire la pagina sono comodissimi perché vengono usati al di fuori del libro e questi sono proprio comodi mi ha regalato questa come posso dire questa gomma ecco questo per farci una midori è meraviglioso guardate che spettacolo bellissimo tesoro bellissimo questa ci farò una midori io ho una agenda così bianca trasparente con le stelle adesso la uso così bellissima tesoro questa è stupenda queste penne che come l'ho aperto detto mamma mia meravigliose queste scrivono sottilissimo e si dividono in due verde e nera e c'è ancora il salva freschezza ovviamente quindi non l'ho provato e per niente guardate che bello questa è rosa e nero nero e grigio ma questo è lo spettacolo proprio questo metto subito un astuccio e questo deve essere una sorta di è tutto salva freschezza una sorta di azzurro e nero sempre come come colore dominante diciamo questo è meraviglioso il tratto è sottilissimo vedete tratto e sottilissimo bello amore bello poi stickers o questi sono meravigliosi allora questi odio scusate queste clip che c'è scritto urgente today urgente today questo qui è un appuntato a s s a s ap che sarebbe più presto possibile vero giulia non sente c'è le cuffie perché lei me la me l'ha tradotto sia cristina e poi quando l'ho fatto della giulia me l'ha tradotto pure lei ma io mi sono già dimenticato c'è da cose da fare urgentemente praticamente però è un'abbreviazione ed è meraviglioso questo proprio è uno spettacolo da mettere sull'agenda dove escono fuori solo le scritte no mamma mia io vado via di testa una valanga di stickers guarda che belli io con questi mi ci faccio le fotocopie perché comunque posso poi riutilizzarli questi aveva detto che questi li aveva iniziati ma questo non è iniziato e qua ma ancora ma non importa stelline facci faccio gli stickers sono meravigliosi guarda che bello questo qui ma scusate stavo guardando io ma non stavate guardando niente perdonatemi la stessa cosa vale per questo mi sento molto buca quindi questo meraviglioso per me guardate che bello sposto qui perché le cose non sono finite un altro nastro questo qui preso da sempre dalla lidl bellissimo questo qui mi piace molto poi questi che io proprio li amo sono praticamente sono praticamente gli elastici questi qua che io uso per le midori che io questi li cerco sempre e ho notato che non sempre via la tiger guarda che bello mollette segnaposto ma queste sono meravigliose guardate che bello questo pizzo sempre per decorazione mamma mia quanto è bello ma poi questo mi fa una sorta di tag vedete che c'ha qui il fiore vedete questo mi fa come fosse un tavolo questo è bello non ci avevo fatto caso che c'era quello capirà io non capito niente io non ci ho capito niente ma guardate che spettacolo non si vede eccolo guardate che spettacolo consegna pagina uno usa questo il pizzetto rimanere questo che mi sono dimenticata di chiederle che cosa dovrebbe essere un biadesivo questo qui se non sbaglio di adesivo gommoso quando si fanno a volte delle clip in 3d praticamente quindi assemblate più a si assemblano più fogli insieme per dargli profondità si mette dietro pezzettino di queste biadesivo quindi si dà profondità all'immagine invece di essere 2d piatta così ad esempio questa già non è piatta così invece di essere piatta così praticamente c'è la testa della mucca il corpo della mucca le gambe della mucca le zampe della mucca che sono tre pezzi diversi mettendo dietro ogni pezzo questo è assemblando lo sticker se praticamente da profondità all'immagine dovrebbe essere questo io questo non ce l'avevo proprio more ma che bello bellissimo questo proprio niente non avevo questo assolutissimamente allora questo ve lo faccio vedere dopo perché se guardate che bello guardate che bello planner society guardate che bello queste sono dei segnalibro dove poi dalla pagina esce fuori l'anas e fenicottero cactus senza parole amore queste sono dei refill per accenda personal che fatta da una creativa che quando me l'ha detto morta proprio ma vi faccio vedere questo è bellissimo allora ma va che bello ciao parole praticamente questo qui è il mensile c'è il mensile scritto così c'è sempre divisorio questo le serie tv con uno spettacolo sta cosa serie tv serie tv serie tv questo password e questa è una cosa stupenda perché io vado perdendo tutto invece così come le segno tutte qui e sto a posto more mi ci faccio anche le fotocopie così vado avanti se vado a mettere qualcosa questo qui invece natale mamma mia quanto è bello natale con il menù cioè natale con il menù scusate il menù praticamente settimanale menù di natale mi pareva un albero questo no e questo qua cosa metto in valigia ma è uno spettacolo poi questa foderina filofax con il righello io so senza parole che io questo uso tutto immediatamente ho tantissime agende e adesso inserisco questo e faccio un'agenda solo con questo uno spettacolo poi questo che bello allora questo praticamente sono gli stickers che mi sono stati omaggiati dalle varie creativa ad ogni mio ordine e lei li ha condivisi con me un tesoro mo guardate che bello questi sono gli omaggi che le creative a volte mettono nei pacchetti guardate che belli e io ho detto anche a lei tenere in mano queste cose di creative che ho solo visto nei video ma non ho avuto mai piacere di avere un sì ce n'avevo una due ma non hanno messo diciamo queste meraviglie dentro e quindi eccole qua guardate queste come sono piccoli negli stickers guardate che bello mi fa un effetto alcune le conosco e altre no ovviamente ma guardate quanto è bello questo questo è un amore poi questo bellissimo questo qui con harry potter questo bellissimo oddio che bello guarda che bello guarda che bello oddio bellissimo cioè questi stickers sono un amore capirai io tramidori midorina accendine cenò di roba questi sono spaghetti sì pasta questo addirittura toy story non potevo credere quando l'ho visto questo re leone no io questa è stupenda è meravigliosa Elsa a forma di di lumachina è una cosa che non si può guardare è bellissimo poi due pompon ma quanto sono belli sti pompon due pompon meravigliosi passiamo al pezzo non che questo non sia forte ma questo non me l'aspettavo proprio allora questa è una cendina fatta da due creative allora una ha fatto la copertina aspettate che c'ho paura eccolo qua una ha fatto la copertina mentre gli altri ha fatto un'altra ha fatto i refile dentro quindi sono state due commissioni guardate che bella con le taschine qua il riccio qui un'agendina è un uno ci può fare sia ad agenda se ci scrive è puntinato mi sono ciecata o è liscio sapete che non vedo è puntinato è puntinato e ci può fare sia da gentina che da notes ha questa taschina dietro ma guardate che spettacolo è una qui guardate che bello mamma mia cioè proprio per il compleanno proprio qui c'ha un pel loop per mettere la penna e questo lo si può riempire quanto si vuole perché comunque ti dà la possibilità questo di poter ottenere più spazio guardate che meraviglia amore mi piace tanto tantissimo tantissimo bellissimo e questo questo qui questo leppi planner guardate intonso ancora con questo che avevo tolto io per vedere dentro è un'agenda e lei mi ci ha messo dentro altri dischetti sem tesoro sia piccoli che grandi è un'agenda non datata io sono rimasta senza parole adesso la riapro ma che bella ma che bella ma che spettacolo qua tutti gli stickers e qui sono 12 tabs perché sono 12 mesi cioè sia qui il mensile che qui c'è il mese di gennaio non è datato mamma mia febbraio prima il mensile poi l'agenda e andiamo avanti fino al dodicesimo che è dicembre questo è uno spettacolo questo è uno spettacolo che io userò mamma mia anche l'anno prossimo mi trovo l'agenda già pronta mamma mia quanto mi piace questa è stupenda questa è favolosa è bellissima ovviamente ogni divisorio eccolo qui mamma mia è uno spettacolo grazie e per ultimo guardate che meraviglia praticamente questo è un album ad anelli dove dentro ci sono queste copertine tutte che si aprono divise tra di loro ogni pagina è divisa per quattro fogli per quattro taschine dove uno mette i viaggi le foto le cartoline per i propri durante i propri viaggi ecco per quello che ha comprato quello che ha visto quello che ha fatto è meraviglioso è meraviglioso cioè una cosa del genere mai mai nella vita guarda e questo è uno spettacolo è bellissimo mamma mia che bello io sono senza parole è proprio una cosa strepitosa non me l'aspettavo minimamente mi ha detto mi ho messo due cosine giusto per tesoro mio ma ti rendi conto è bellissimo io sono senza parole sono felicissima io sono felicissima felicissima oggi è stata proprio una giornata mamma mia quando è arrivato sto bacco non me l'aspettavo io ti mando un bacio grazie grazie a voi per essere stati con me sono stata più veloce del mondo sto sudando come una farina in montagna mamma mia mi sventolo perché se no casco dentro ve voglio bene vi mando un bacio a presto ciao ciao mi sventolo ciao